La Cispadana è un'infrastruttura fondamentale per la Regione Emilia-Romagna ma per l'Italia nel suo complesso e quindi deve essere impegno di tutti cercare di creare le condizioni per realizzarla. Con il precedente governo la Regione era impegnata a cercare le ultime risorse dopo l'aggiornamento del piano economico finanziario. Un aggiornamento avvenuto per due ragioni principalmente, perché sono cambiate le condizioni di traffico rispetto a quando la Cispadana era stata pensata e perché sono subentrate delle modifiche da fare a seguito della valutazione di impatto ambientale. Parliamo di circa 200 milioni di euro mancanti. La Regione su questi 200 milioni è pronta a fare la propria parte. È chiaro che non lo può fare da sola, serve anche l'accordo e il finanziamento da parte dei soggetti attuatori con ovviamente l'intermediazione e l'intervento del governo. Con quello precedente si era aperta un'interlocuzione che sembrava portare al raggiungimento dell'obiettivo con questo invece il dialogo è molto più complesso. A nostro avviso c'è una volontà neanche troppo nascosta di non voler più fare questa arteria. Noi riteniamo come Regione, e sono d'accordo con noi anche molti cittadini e soprattutto le imprese, che ci sia la necessità di realizzarla per migliorare la comunicazione dentro la Regione e complessivamente per migliorare l'infrastrutturazione del nostro Paese. Ecco, il Movimento 5 Stelle sostiene poi la necessità non tanto di un'autostrada, ma di una strada a scorrimento veloce. Anche su questo credo che bisognerebbe fare un po' di conti. La strada a scorrimento veloce ovviamente è realizzabile, ma implicherebbe un investimento completamente pubblico e oggi le risorse paiono non esserci per questo tipo di investimento. E poi ci sarebbe un tema di manutenzione, che vediamo ad esempio sulla superstrada Ferrara Mare. È un'arteria importante e fondamentale, però tutta a carico del pubblico e quante difficoltà vediamo oggi di manutenzione di quella arteria. Quindi credo che bisognerebbe fare bene i conti e soprattutto tener conto della funzionalità della struttura. A nostro avviso l'autostrada sarebbe la soluzione migliore. Confidiamo che il Governo ci dia una mano.